Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dall'autostrada A1 dove si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 per lavori stanotte in orario 22.06 sarà chiusa l'entrata di Prato Est in direzione Firenze. Sul raccordo Bettolle-Perugia è avvenuto un incidente nei pressi dello svincolo di Pietraia in direzione Perugia. Per la viabilità cittadina a Firenze da domani fino a metà settembre lavori di e-distribuzione in via Pisana nel tratto a cavallo del ponte sulla Greve. Informazioni sulle chiusure sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!